il nostro anno ciclistico inizia dal nostro sponsor il nostro sponsor elite della nostra squadra barmimi ricordiamo viale kennedy numero 12 acqualeano e con me stamattina giue paolo che si prenderà questo caffè dal signor d'alterio sempre alle macchie sempre presente auguri signor d'alterio da tutto lo staff raffaele d'alterio auguri da parte da parte nostra tutto il team al team ciclistico a sd bici qualiano grazie grande raffaele barriso storico di qui di qualiano con esperienza trentennale ci faccio gli auguri di un buon anno di fare un caffè sempre migliore infatti gli anni passano lui del caffè è sempre migliore imparare a farlo sempre di più ogni anno no no niente da imparare lui può solo insegnare adesso ecco il caffè del signor raffaele d'alterio ragazzi non sapete cosa vi perdete con questo caffè questo è il caffè del presidente il caffè del presidente fatto dalle mani del signor raffaele d'alterio faccio il signor raffaele faccio gli auguri di buon anno a tutti i nostri amici ciclisti e nonne tutti gli abitanti di qualiano a tutti i tipi della sd bici qualiano auguro a tutti i ciclisti di qualiano e tutti i soci e tutti i soci e i presidenti la c'è il signor speranza e colgo l'occasione di salutare anche il mio grande amico luigi fiore che oggi sarà arrivato la settimana grande luigi grande raffaele d'alterio grande speranza e il grande bar mimì e il grande presidente giulopatto il signor raffaele d'alterio grande